Marco Rizzo, un suo commento sulle due cose che abbiamo detto negli ultimi due interventi. La prima, il ruolo del pontefice, la seconda, quanto diceva Teodori, e io la lavoro un po', la questione, Cuba era soprattutto, era anche definita per il negativo, cioè nei confronti degli Stati Uniti, si dice, sì non c'è la democrazia ma prova te a vivere a 80 km dalla maxipotenza mondiale con un embargo che ti stritola. Adesso che questo si scongela, la questione dei diritti umani come può evolvere? Credo da questo punto di vista che si debba fare una valutazione di questo genere. Pensiamo un po' all'Italia, al nostro paese. Se noi fossimo aggrediti dall'intera Europa per 50 anni, ci fossero le navi militari che ci circondano e non ci fanno fare nessun commercio, avessero fatto uno sbarco invece che alla Baia dei Porci, l'avessero fatto a Genova, avessero fatto, sono 600 circa, gli attentati provati, alcuni e altri solo organizzati e poi non realizzati, nei confronti di Fidel Castro e quindi 600 attentati nei confronti dei nostri Presidenti della Repubblica. Quale sarebbe il livello della libertà cosiddetta nel nostro paese se fossimo sottoposti a un assedio di quel tipo? Quando Moro fu rapito, il democratico, Ugo Lamalfa, in Parlamento, fece un solenne discorso chiedendo la pena di morte e lo stato d'assedio. Ecco, certamente le Brigate Rosse non avevano la forza degli Stati Uniti rispetto alla piccola isola di Cuba, però questo è il raffronto. Così come quando si parla dell'economia di Cuba... Cioè nel suo giudizio, tirando una riga, riga adesso... No, 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 intanto era per spiegare questo perché avete, insomma, come si può dire, le voci contro Cuba sono da 50 anni, quindi un minimo di difesa bisognerebbe mettere. La seconda cosa è anche legata a quello che stavate dicendo. Cosa accade? Gli Stati Uniti hanno cambiato politica con Obama, magari non fanno la guerra direttamente, però basta vedere la Siria, basta vedere la Libia, basta vedere l'Ucraina. Usano una modalità diversa, appoggiano, diciamo così, forze dall'interno di quei paesi, e sobbillano questi paesi. Adesso, chiaramente, a Cuba non lo possono fare, però, come si può dire, quello che non sono riusciti a fare con i soldati, magari hanno in mente di farlo con internet, con le comunicazioni di massa, insomma... Insomma, Riffa non si fida dell'apertura americana. Sì, io sono per dire no, no, non siamo tutti americani, ecco, perché gli Stati Uniti, intesi come potenza imperialistica, continuano nel mondo a combinare a quello che combinano. Quindi, evidentemente, c'è una differenza di linea politica di Obama, che appunto è alla fine del suo mandato, e c'è una strategia, indubbiamente. E questa strategia, appunto, valuta una diversa condizione, anche economica, nei confronti degli Stati Uniti. C'è una debolezza americana rispetto a tutta l'America Latina, ma voi qua l'avete detto. C'è la necessità, quindi, di riprogrammare una politica estera americana nei confronti del Brasile, dell'Argentina, del Venezuela... Molti si fermano prima, c'è una necessità di riprogrammare la politica estera americana, appunto, abbiamo visto ultimamente... Ma è sempre un po' stata la differenza tra democratici e repubblicani. I repubblicani hanno sempre pensato, diciamo, più a una situazione autottona e i democratici più a un'espansione. Non abbiamo più molto tempo. Le grandi guerre le hanno fatte sempre i democratici.